ariete amore tutto è motivo per far discussioni soprattutto perché ritieni di essere perfetto e quasi sempre pensi di poter dare giudizi su tutto e tutti toro oggi dovrai trovare forze e stimoli per non mollare andare avanti giornata pesante e alla fine non sarai neanche arrabbiato gemelli una telefonata o un incontro atteso ma imprevisto ti metterà nelle condizioni di scegliere cosa fare della tua vita futura venerdì di grandi novità cancro calma e sangue freddo ti comporterai da signore ignorerai ma farai capire di sapere e alla prima occasione restituirai il favore con eleganza leone un po assente al lavoro e forse ti distrarrai anche durante una riunione importante sei in pace con il mondo imperturbabile vergine oggi ti vuoi bene deciderai di pensare a te qualsiasi sarà la tua scelta devi solo cercare di essere costante nel tempo bilancia è tempo di amare e farsi amare quale modo migliore per coronare il venerdì sera se non con una freccia di cupido se sei single è il tuo momento scorpione marte c'è e quindi la voglia di dare un pugno al muro a fine giornata non mancherà ma giove sarà più forte e saggio sagittario al lavoro oggi penserai più agli altri che a te e questo ti porterà non poca stima e consensi anche i capi stanno a guardare capricorno una telefonata o una mail che non ti aspetti creerà un po di confusione e sarai forse chiamato a fare una scelta imprevista giornata rivelatrice acquario chiamati a raccolta agli amici di sempre organizzerete insieme una serata memorabile oggi finalmente non metterai il lavoro al primo posto pesci la paura della solitudine ti porterà a fare scelte importanti per la tua vita e i tuoi rapporti interpersonali